Il comune di Cervetri si è aggiudicato un finanziamento regionale pari a 70.000 euro, che consentirà di realizzare la spina dorsale del sistema arborio di Cerenova. Il progetto ossigeno, infatti, sarà finalizzato a garantire la ricucitura del corredo vegetale tra le singole zone, in funzione di una maggiore continuità paesaggistica ed ecologica. Gli interventi di piantumazione avverranno in autunno, stagione ideale per la buona riuscita dell'attecchimento della nuova alberatura. Nel frattempo, gli operai della Murti Servizi Cerite hanno già cominciato ad abbattere tutte quelle alberature che sono risultate pericolose, a seguito di approfonditi controlli e verifiche da parte degli agronomi comunali. A fine progetto saranno sostituiti 55 arbusti risultati malati, mentre 115 saranno impiantati per la prima volta. In totale, la città avrà 170 nuove alberature.